cari amici e ben arrivati ad una nuova puntata di avvocato in tv la nostra rassegna del martedì che ci consente di fare luce su alcune questioni di carattere giuridico che riguardano tutti noi e con questa puntata quella di oggi con settembre quindi chiudiamo queste quattro puntate che abbiamo dedicato al grande passaggio che ci sarà dal primo gennaio del 2022 ovvero il fatto che tutti noi dovremo passare nel mercato libero dell'energia abbandonando il mercato tutelato bene oggi vogliamo dare qualche utile consiglio su come scegliere l'operatore e soprattutto quali sono i costi che troviamo in bolletta a cui bisogna stare attenti beh prima di tutto per poter scegliere l'operatore del mercato libero abbiamo tante proposte tutti i giorni che ci vengono presentate dobbiamo guardare certamente al costo dell'energia ma questo lo vedremo subito dopo dobbiamo guardare però poi anche i servizi che questo operatore ha intenzione di erogarci ad esempio la facilità di contattare il numero verde nel caso ci fossero problemi ad esempio il fatto che abbia dei punti vendita sul territorio che ci consente quindi di andare a portare documentazione o a richiedere interventi nel caso avessimo qualche necessità importante poi anche i costi che siano chiari e trasparenti e cioè che la proposta che ci viene formulata non sia costituita da vari rimandi aggiornamenti eccetera ma che sia invece chiara e facilmente intellegibile e poi è anche importante l'utilizzo del web e cioè che la compagnia ci metta a disposizione delle applicazioni sul telefonino per tenere sotto controllo costantemente i nostri costi ma anche delle bollette online andiamo a vedere invece adesso quali sono i costi a cui dovremo stare attenti nella valutazione della nostra offerta vediamo subito intanto come è costituita una bolletta ci sono quattro voci che compongono il prezzo finale cioè il costo che ci viene addebitato il primo è il costo dell'energia e questo è l'unico costo che varia da operatore ad operatore perché gli altri costi che sono appunto ad esempio il costo di trasporto gli oneri di sistema o le imposte e le tasse questi ulteriori tre costi sono gli stessi per ogni operatore perché sono imposti dalla rera e cioè dell'autorità per l'energia e per il gas bene per quanto riguarda invece la componente che ci interessa cioè la componente variabile quella relativa al costo dell'energia questa a sua volta si divide in tre vari settori il primo è l'acquisto dell'energia cioè dove l'operatore va ad approvvigionarsi di energia e questo può modificare i costi importante poi il costo di commercializzazione cioè quanti sono i costi che quell'operatore deve sostenere per commercializzare cioè per portare l'energia presso il nostro la nostra abitazione ma soprattutto per fatturare per imbustare e per inviarci tutte le comunicazioni i costi insomma che loro hanno come azienda e poi ci sono oltre a questi i costi di dispacciamento i costi di dispacciamento sono sostanzialmente il rapporto tra quella che è l'energia che viene immessa nel sistema e quella che è l'energia che viene prelevata del sistema perché non si riesce in caso in cui venisse posizionata venisse inserita venisse immessa nella rete un una quantità di energia che non si è in grado di utilizzare non c'è ancora la possibilità di come dire accumularla e quindi questo rapporto questa gestione di questo rapporto appunto è il costo di dispacciamento bene a questo punto ci dobbiamo chiedere quale sia la tariffa che a noi conviene di più e ci sono ad esempio le tariffe monorarie o le biorarie sono le tariffe che sono uguali durante la giornata in tutti i momenti della giornata e in tutti i giorni della settimana ovviamente se si tratta di un acquirente costituito da un anziano che rimane prevalentemente in casa per questa persona va bene e fa meglio la tariffa monoraria se si tratta invece di un lavoratore che magari in casa soltanto alla sera o addirittura di uno studente che è in casa soltanto nei weekend per lui vandrà meglio una tariffa bioraria dove avrà la possibilità di scegliere appunto gli orari in cui pagare di più e pagare di meno ovviamente sceglierà di pagare di meno quando è a casa quindi magari nei weekend o alla sera e pagherà quindi di più e quindi di più rispetto alla monoraria nel periodo in cui invece si trova fuori casa ci sono poi ancora le tariffe che possono essere indicezzate oppure possono essere a prezzo fisso a prezzo fisso sono tutte quelle tariffe del mercato libero che non fluttuano con il fluttuare del prezzo dell'energia ad esempio con l'andamento del prezzo del petrolio mentre quella che è la tipica tariffa del mercato vincolato cioè del mercato a maggior tutela è una tariffa indicezzata tant'è vero che viene indicezzata viene modificata trimestralmente da parte dell'autorità in base a quello che è l'andamento del prezzo dell'energia sappiamo che nel corso degli ultimi anni il prezzo dell'energia è cambiato molto a causa anche del fluttuare del prezzo del petrolio sono intervenute poi anche le energie verdi quindi sono state varie opzioni che si sono aperte quindi dovremmo stare attenti a valutare se ci conviene meglio un'opzione a prezzo fisso magari più alto o un'opzione indicezzata che possa però anche scendere l'ultima considerazione che facciamo prima di lasciarci è quella che in caso di controversie vi è la possibilità di rivolgersi alle associazioni consumatori di rivolgersi anche agli avvocati che vi stragrande maggioranza dei casi non si arriva di fronte a un giudice ma la si chiude in conciliazione quindi si chiude in dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie bene con questo io vi saluto vi ringrazio della vostra attenzione vi ricordo di telefonare al numero che vedete in sovraimpressione o alla mail che verrà stampata qui sotto di me avrete la possibilità di formulare le vostre domande avete le possibilità di chiedere alcune cose io sarò ben felice di rispondervi alla prossima puntata di avvocato in tv restate con noi perché ogni martedì da oggi continueremo con avvocato in tv con argomenti diversi abbiamo soltanto chiuso la parentesi di settembre che appunto la parentesi dedicata all'energia ma dal prossimo mese dal mese di ottobre continueremo con tante puntate su argomenti molto importanti del diritto delle controversie del contenzioso restate con noi e ci vediamo martedì prossimo arrivederci